Siamo sempre a Ispol 2023, sempre con Enrico, sempre Ferrino, in questo caso parliamo di tende. Ciao ragazzi, buongiorno di nuovo, sempre io qua con la bellissima piuma nelle nostre spalle. Questo dicevamo tre tende, piuma 1, piuma 2 e blow 2. Queste sono le tre novità diciamo per il prossimo estivo, tre tende in nylon, un'autoportante e due no, e ovviamente quelle non autoportanti con dei veramente finalmente in nylon e con dei pesi veramente minimi, quindi 950 grammi per la un posto e un chile 3 per la due posti che vedete montata dietro di noi. E la blow invece? E la blow siamo sul chile e mezzo la due perché è autoportante. E poi soprattutto anche molto piccole? Super compatta, adesso andiamo di là andiamo a vedere il packaging che è molto piccolo, molto compattico, adatto per viaggi e avventure in bici o a piedi. Tra l'altro oltre ovviamente la tende in materiale abbiamo rifatto le custodie per cercare di farle più packable possibile e come vedete qua questo è il nuovo risultato, qua la piuma 1, poco più grande di una borraccia da un litro, 950 grammi di tenda, diciamo una ventina di centimetri, 23. Da qui la sua sorella 2 che si porta a un chile 3 ovviamente un po' più di ingombro, ma che si può dividere tra le due persone, quindi uno può portare all'interno e l'altro il flysheet. Stesso discorso per la blow dove essendo autoportante ovviamente aumenta ancora un filo ma rimaniamo a un chilo e sei.